Basta, basta, basta! Ehi, ehi, ehi! Amici di Sportaclombio Zero, ben ritrovati. Siamo con Andrea Canucci, il DS del Teco Leipto. A causa delle pratiche per l'invito e per la disponibilità. Grazie a te. È una bella tenata, dopo che c'è davvero tanto entusiasmo. Sì, l'entusiasmo non manca. Siamo contenti di aver ricreato tutta questa gente intorno al Ticolieta, quindi era da un po' che non si vedeva. Diremmo che continui tutto il bene che c'è stato quest'anno, che è stata ciò. Anche perché siete riusciti a confermare lo soffiuto della squadra, poi tanti arrivi di ragazzi, di belle speranze? Sì, la prorogativa era comunque mantenere il gruppo che abbiamo creato l'anno scorso. Qui abbiamo inserito dei giovani, secondo me, per me possiamo fare bene. Dove possiamo arrivare è dire al capo, però secondo me è una buona cosa. Per il momento è stato concluso o ci saranno qualche sorprese? No, sorprese non ci saranno perché abbiamo una rosa di 20-21 giocatori e non vogliamo rosa di capo ad arrivare. Quindi sicuramente fino a dicembre, grazie a tutti, ciao!